È un'iniziativa direi unica nel suo genere perché ho voluto portare la disabilità come protagonista al Senato e quindi ascoltare questi ragazzi perché in questo luogo oscuro dove si parla, si parla e nessuno ascolta. Quindi speriamo che abbia qualche esito. Ho voluto portare e far conoscere ai ragazzi non tanto la posizione politica di ciascuna persona ma la sua funzione è facente funzione. Quindi hanno incontrato il Presidente, hanno incontrato tre vicepresidenti, presidenti di commissioni, hanno incontrato il questore, sono entrati nel suo ufficio, hanno fatto un giro al secondo piano nelle stanze del Presidente. Il Presidente è stato anche molto simpatico con loro, ha risposto a tante domande. Posso citare non il nome ma la battuta di uno di loro che ha detto ma Presidente perché la chiamano grasso, lei non è tanto grasso. E quindi è stato veramente divertente. È stato bello e spero che nella sua semplicità dia un valore profondo e faccia toccare quelle corde intime in ciascuno di noi che ci porta poi quella sensibilità necessaria per risolvere questi problemi che purtroppo sono dei problemi seri.